Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto illuminazione di Nasun 105 SS LED. Illuminatore foto video di Nasun 105 SS luce LED faretto per videocamera a luce fredda 5500 carati potenza variabile kit completo di batteria, carica batteria, staffa, filtro, adattatore per batterie Aco LED ultima generazione, extra potenti, con un grado di luminosità superiore rispetto ai normali LED in commercio. Con un regolatore di potenza e di temperatura di luminosità descrizione l'illuminatore Dinasun 105 SS a luce LED è il modello ideale per le vostre riprese di videoregistrazione, ma può anche essere utilizzato in ambito fotografico. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.